Ciao, sono Giulia, sono madrelingua russa, sono consulente linguistico e docente di lingua inglese. In questa serie parlo delle domande più frequenti che ho ricevuto nel corso dei miei sei anni di pratica nel settore linguistico. Vediamo la domanda di oggi. Mi imbarazza il mio accento e gli errori che potrei fare e mi blocco nel parlare la lingua. Come posso superare questa difficoltà? Beh, la mia propria esperienza al riguardo è stata un po' strana. Non ho mai avuto questo problema psicologico con l'inglese, ma ho passato due anni combattendo contro questo blocco con l'italiano. Quindi direi che è variabile anche da lingua a lingua, non solo da persona a persona. Quello che mi ha aiutato molto, e che dico sempre ai miei allievi, è che un accento è un segno di coraggio. Chi parla con accento vuol dire che parla almeno un'altra lingua. La differenza che bisogna capire è quella tra accento e pronuncia. Il vostro accento è anche un segno della vostra identità, è parte di voi, e non dobbiamo mai sentirci a disagio per quello che fa parte della nostra identità. La pronuncia, invece, rappresenta la nostra capacità di riprodurre i suoni e le intonazioni di un'altra lingua in modo chiaro per il nostro interlocutore. Ciò significa che possiamo avere una pronuncia perfetta, ma avere comunque un accento, proprio come ad esempio esistono accenti diversi in diverse parti d'Italia. Anche agli esami come Cambridge Proficiency English, pari al livello C2, non è richiesto non avere accento. Quello che è obbligatorio, invece, è avere una buona pronuncia. Allora, come lavorare sulla pronuncia? Io direi che la linea guida più chiara è quella di ascoltare tanto e praticare la lingua per più tempo possibile. Più facile dirlo che farlo, lo so. Non ho ancora scoperto un metodo più efficace, però, che ascoltare e ripetere una parola o una frase e registrare la propria voce, per poi avere la possibilità di paragonare i nostri risultati all'originale. È abbastanza impegnativo, ma allo stesso tempo può risultare molto divertente, specialmente se fatto con gli amici o in un gruppo di studio, leggendo, per esempio, diverse battute in diverse voci. L'aspetto principale è quello di ricevere feedback. Se usate il metodo di cui vi ho appena parlato, il vostro feedback, è il confronto tra l'audio originale e la vostra pronuncia. Tuttavia, anche qui sarebbe opportuno avere l'aiuto di un professionista esterno, in quanto non siamo tutti capaci di distinguere le piccole differenze di pronuncia. È molto utile anche leggere i testi ad alta voce, registrando ancora una volta la propria voce. Ma in questo caso diventa già necessario avere un feedback da una persona esterna e professionalmente preparata. L'altro fattore che ci può far sentire a disagio è la paura di fare errori. Io direi, spesso facciamo degli errori anche nella nostra lingua madre. Perché dovremmo preoccuparci così tanto per una lingua che non lo è? Lo studio di una lingua straniera è un percorso. Non ci sono scorciatoie e non esiste un metodo che permette di non fare errori. In effetti, tanti poliglotti basano il loro studio sul fare più errori possibili. In questo modo, dopo il feedback sugli errori, imparano da questi in modo più veloce e con meno sforzo di memoria. È comunque un argomento molto profondo che comprende la psicologia, la psicolinguistica e altre discipline e ne parleremo in dettaglio in un altro video. Vorrei sottolineare che più vi impegnate, più andate avanti con il vostro percorso di apprendimento di una lingua, più crescerà la vostra sicurezza in quello che dite, scrivete e nei modi in cui usate la lingua. I primi passi sono giustamente timidi. Permettetevi di essere insicuri all'inizio per poi vedere quanto si sviluppano le vostre capacità e per sentire come cresce la vostra confidenza. Sperimentate con i metodi e non sentitevi a disagio né per il vostro accento, che fa parte della vostra personalità, né per gli errori che accadono, perché fanno parte del percorso senza il quale l'apprendimento non esisterebbe. Grazie per la vostra attenzione e ci vediamo nella prossima parte.